e quindi vabbè ma sulla juventus sfondiamo un cancello che già aperto la juventus qualsiasi cosa succede se ne fa un caso internazionale lo succede all'intero succede al napoli fanno una vergogna internazionale la juventus è una vergogna internazionale perché ha umiliato sport e ha umiliato un campionato dire parlare della juve e umiliare lo sport perché succede che quando c'è un caso un caso nazionale perché la juve è il precedente due no però la juve è l'unica è stata l'unica a essere condannata in serie b e quindi ma perché voi siete prescritti perché voi siete prescritti l'italia la juve ci rappresenta la juve ci rappresenta che sono andati in prescrizione ci avete i passaporti che sono andati in prescrizione vabbè però non è che perché gli altri proprio ecco qua proprio la mentalità italiana gli altri fanno quindi noi possiamo la juve mafia berlusconi juve eccola l'italia che immagina all'estero perché squadra io non tifo squadre io sono un tifoso moderno di fallenatori quindi con me il giochino della juventus gli altri rubano quindi noi possiamo fare peggio non fa ma io non ho mai detto questo non funziona stavi dicendo questo stavi dicendo questo ora se ti vuoi mangiare allora o parliamo in due perché devi fare il monologo tirami giù anche a me fai parlare solo lui perché qua è inutile che fate chi la spara più grossa io ho risposto a un interista che mi ha detto che voi avete i precedenti i precedenti e l'inter sono andati in prescrizione bene io non sono interista perché io non sono interista io non sono interista quindi ora infatti non ho risposto bene ora parliamo della juve alla della juve ha umiliato un campionato vuoi negare questo che umilia lo sport i tifosi come te umilia io non sono un tifoso così come te umiliano lo sport io non ah sì perché una società che ha passato un campionato non umilia lo sport la gente non ammetterlo facciamo tutti un passo indietro e torniamo al tema sto aspettando ancora una live in cui dell'email non si attacca con qualcuno ma non penso che avverrà che tu alimenti l'ogio voi alimentate io quando io io tu a me non mi conosci e prima di giuventino identikit immagino il grillino e quindi che cazzo vuoi e quindi se giuventino ammetti che avete umiliato lo sport ammettilo ammettilo lo deve ammettere se confessi ti senti meglio se confessi sei da tenere lontano dallo sport tu non puoi parlare di sport allora è credibile parlare di calcio e tu mi tiri fuori delle puttanate allora allora quindi molla la storia con me perché io la storia del calcio la conosco bene sigaretta ce l'accendiamo insieme ce l'accendiamo insieme ce l'accendiamo insieme allora ho l'identikit se il giuventino già ti scompendo ma chi cazzo c'è ma chi cazzo vuoi da me allora ma come ti pio ma chi ti conosce vabbè no vabbè era per calmarci allora ci fumiamo una sigaretta non lo so are tu che hai mangiato oggi parliamo un secondo d'altro che poi ripartiamo io ho mangiato riso e come era basmati come io ti dico la verità e ho visto adesso che ragazzo quello che ha attaccato totti no 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 l'hanno scoperto ma siamo fottuti siamo fottuti dell'email per ora è odiato da giuventini e romanisti adesso vabbè vabbè non hai detto niente di grave se non sbaglio adesso non mi ricordo dell'e cosa che hai detto per capire un attimo no io ho detto che tifo alla roma e spero che la roma faccia il triplete l'anno prossimo io sono un tifoso della roma no su totti forse avevi detto qualcosa ma niente di che se non ricordo male niente di che avevo detto che è un buon giocatore non è un campione tutto qua poi le storie che stiamo usando sui giorni ok beh beh sì diciamo che l'abbiamo sì sì